Musica Ben ritrovato a tutto il pubblico di Teletruria, nuovo appuntamento con Intim. Andiamo insieme ad esplorare il mondo del lavoro e lo facciamo come sempre in collaborazione con Confartigianato Arezzo. Noi vogliamo raccontare il tessuto produttivo di questa provincia. Questa volta è la volta dei serramenti e quindi vi presento subito il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Leonardo Fabbroni della Fabbroni Serramenti. Ben trovato su Teletruria. Grazie e buonasera a tutti. Allora per presentare innanzitutto l'azienda facciamo una piccola intro, un piccolo cappello. Un'azienda che va da una lunghissima esperienza. Siete a Pia Valtoppo, siamo già la seconda generazione. Terza generazione. Terza generazione. Quanti anni? 75 anni quest'anno. 75 anni di artigianato. Quindi complimenti e quindi ecco rapidamente per presentare la vostra azienda. Comprendiamo ovviamente di che cosa vi occupate Fabbroni Serramenti anche perché tra poco poi vedremo anche le immagini proprio. L'azienda è stata creata nel 1949 da mio nonno. Poi negli anni sono introdotti mio babbo e mio zio all'interno dell'azienda e nel 1993 ci siamo trasferiti da Battifuoli dove eravamo la sede principale iniziale quando abbiamo iniziato. Siamo trasferiti a Pia Valtoppo e poi negli ultimi anni o dal 2008 la mia cucina successivamente dopo aver finito gli studi siamo entrati in azienda io e mia cucina. Ecco quindi c'è questo queste tre generazioni che si fondono. Quindi la prima domanda che mi viene subito spontanea farti oltre che capire bene di che cosa ti occupi tu è questo. Come dialogano queste generazioni? C'è lavoro di squadra? Il lavoro di squadra è fondamentale quando comunque sia anche perché poi l'evoluzione sia in maniera semplice pur facendo serramenti comunque sia l'evoluzione negli anni sono state tantissime sia a livello di produzione a livello di normativa quindi ci vuole organizzazione del lavoro. Chiaramente comunque sia ormai da dieci anni ci occupiamo anche della produzione di arredi quindi è stata una cosa che abbiamo introdotto successivamente quindi anche quella fase lì è stata tutta diciamo sviluppata studiata e quindi il dialogo tra i vari componenti insomma dell'azienda è un dialogo continuo giornaliero che per noi viene naturale non ci se ne accorge neanche però se ti metti a sedere e rifletti dici effettivamente c'è tanti passaggi perché poi avvengono con naturalezza e neanche ci fai caso insomma nell'azienda artigiana è questo è il rapporto continuo 12 ore al giorno che stai lì dentro comunque sia il quotidiano che spesso ti devi fermare per farci caso che succede insomma una cosa. Ecco questa è un'osservazione molto interessante però io vorrei continuare a scavare perché non è facile trovare differenti generazioni che riescono a dialogare proprio nella stessa famiglia per di più di solito chi ha fondato l'azienda ha sempre delle remore nel vedere il cambiamento ecco sicuramente tuo padre non ci sente. No no la cosa principale per far sì che questo avvenga la cosa intelligente che è avvenuta naturalmente all'interno dell'azienda è Mbabbo e Mizzio che comunque sia non c'è stanno a guardare danno il consiglio sono partecipi però mai una scelta io ormai sono dal 2008 che sono azienda non c'è mai stata una volta che hanno detto no te l'avevo detto che dovevi fare così questo è il fondamentale secondo me l'intelligenza sta in questi passaggi. Quindi il passaggio generazionale viene automatico ti danno il consiglio ti guidano ti chiedono spesso so io che devo andare dall'ora di che ne dite se si fa così insomma questo è avvenuto tutto in maniera molto naturale e capisco però la fortuna che ho avuto perché comunque sia in molte molte aziende c'è l'anziano padre padrone che non lascia spazio al giovane e qui arriva la difficoltà invece sinceramente questa cosa Non l'ho vissuta fortunatamente. Non l'hai vissuta e questo è un bene per te per l'azienda anche perché altrimenti non è facile rimanere al passo con i tempi se appunto vengono posti dei veti dall'alto comunque rimane alto. Se io guardo il lavoro comunque sia che si faceva nel 2008 quando sono in azienda e vedo l'azienda nostra oggi è totalmente diversa cioè oggigiorno occupandoci... Ecco raccontaci come siete organizzati oggi come è organizzato il lavoro e come riuscite appunto a lavorare insieme Certo le fasi dell'azienda comunque l'azienda nostra è abbastanza strutturata quindi abbiamo dei validissimi collaboratori con i quali tutti i giorni svolgono le varie funzioni Se guardo l'aspetto proprio nostro familiare magari io mi occupo più della parte diciamo di cura del cliente la parte commerciale rapporto con la persona Successivamente comunque sia si fa un rilievo misure che o va il geometra o io con il geometra affiancato dipende dall'entità del lavoro Dal cliente Il dettaglio Se è un arredo magari spesso si va in due perché c'è da stare attenti a 10 particolari in più Successivamente si ritorna in azienda con il rilievo fatto e inizia la fase in cui poi interviene mia cucina La fase iniziale di progettazione di praticamente di iniziare a il disegno l'industrializzazione di ciò che deve essere realizzato dal cliente Fase successiva comunque sia noi lavoriamo sia per la parte arredo che per la parte serramenti con dei programmi automatizzati Quindi inserisci dentro disegni l'oggetto che devi fare e poi è il software stesso che va a fare la parte cam della lavorazione Perché comunque sia siamo artigiani ma comunque sia siamo artigiani evoluti Questo è un po' il particolare E nella fase poi successiva una volta fatta la parte cam che poi si vede anche dalle immagini Intanto l'evoluzione la vediamo bene dalle immagini la vediamo Comunque sia l'operatore spara un codice a barre e automaticamente se la macchina sta Cioè se il disegno è stato fatto bene fa la lavorazione giusta sul pezzo E quindi questo è quello che ci permette di diminuire l'errore Poter tenere conto del dettaglio insomma tutta una serie di particolari che oggigiorno Sono quello che ci permette di poter lavorare insomma Questo è il nostro punto di forza comunque sia l'artigianalità ma legata all'industrializzazione Ecco questa infatti la domanda mi anticipi proprio questa Come lavorano in team come dire il vecchio metodo e l'innovazione Quindi ovviamente rimane sostanzialmente mi hai risposto perché rimane con orgoglio la parte artigianale Sì sì che poi alla fine il dettaglio comunque sia nasce sempre dall'artigianalità Perché poi spesso avere un mestiere alle spalle ti permette di poter vedere o indistrializzare un processo Oppure capire se quel dettaglio lì conviene sempre farlo in maniera artigianale Che ci si mette la metà del tempo che andare a fare la programmazione del macchinario Per magari fare spesso un dettaglio Questo spesso quando si fa progettazione con la mia cucina e il mio zio Se se ne accorge di questo passaggio è magari il mio zio che sta facendo la parte della macchina Dico lascia stare e poi lo faccia a mano perché ci vuole più a disegnarlo e far sì che la macchina lo faccia Perché l'intelligenza artificiale è bellissima ma la parte artigianale insomma Spesso fa prima ci arriva in maniera più diretta al risultato finale insomma Sembra davvero quello che hai appena detto come dire sei un perfetto testimonial di quello che è il vostro credo in questo momento Va bene l'innovazione, va bene l'intelligenza artificiale ma non dimentichiamoci mai la manualità, l'artigianalità Da dove siamo venuti? Per arrivare al risultato insomma comunque sia le origini, la storia, l'azienda Servono, sono indispensabili Insomma io credo che oggi iniziare un'attività come la nostra da zero sarebbe impossibile in sostanza Quindi il bagaglio che hai alle spalle ti permette di poter continuare, avere un'evoluzione sia nei materiali, nell'utilizzo Oggigiorno una parte abbastanza importante della nostra azienda si occupa della realizzazione dei negozi Quindi vai a fare la parte in metallo, la parte in velluto, comunque sia i tessuti Ti avvali sempre di collaboratori artigiani, insomma questa è un po' la forza che si riesce E' la base E' la base Da cui partire Quello che dico sempre io quando viene un cliente che vuole un arredamento su misura Io dico se lo trovi, che ti piace e va bene, compralo Se no altrimenti si può realizzare Entriamo assolutamente in azione noi Senti il tempo sta scorrendo rapidamente Io avrei tantissime domande Quello che però devo assolutamente chiederti è che rapporto avete con i vostri collaboratori Intesi come dipendenti, cioè con chi lavora per voi Che clima si respira Allora io cerco collaboratori direi più che dipendenti Collaboratori, ti piace di più Sì, stiamo insieme dalle 8 alle 10 alle 12 ore al giorno Lo credo Mi piace molto l'ambiente che spero di aver creato Il lavoro per me è una parte importante della giornata Quindi come tutti c'è il momento in cui uno è più rilassato E uno in cui magari riesce a trasmettere peggio determinate situazioni Però si cerca sempre di andare incontro alle esigenze di tutti Questo secondo me è fondamentale in un'azienda artigiana Poi alla fine è una famiglia Ci può essere la volta che paghi lo scotto Che dici avevo creduto su quella persona E poi ti vedi fra virgolette Che non è andata a buon fine Però sono molto contento Insomma delle persone che lavorano con noi È questo che ci dà la forza, la disponibilità Ragazzi al contrario di quello che si pensa Comunque sia pur essendo un'azienda storica Abbiamo tanti giovani all'interno E quindi questo qui mi rende molto orgoglioso Insomma la disponibilità, la voglia di fare anche da parte loro Per me è fondamentale per poter andare avanti L'ultimissima domanda è questa Tu sei anche presidente all'interno proprio di Confartigianato del settore legno Sei presidente nazionale Sì Come coniughi il tuo lavoro con questo incarico? Ecco come lavori di squadra con te stesso? Ecco mettiamo così Questa è una bella domanda Questa è una bella domanda, lo so Allora la cosa fondamentale Cerco sempre di avere un'agenda in maniera tale Da poter essere molto pignolo nelle organizzazioni Quindi cerco sempre di mettere tutte le cose molto in fila E quindi fino a che mi sarà possibile Cerco di coniugare gli spazi per tutte e due le attività Quindi la programmazione potremmo dire la chiave La gestione, la cura del dettaglio La cura del dettaglio L'essere comunque sia sempre Cioè non arrivare a domani mattina e pensare cosa devo fare Questo non mi capita mai Non fa parte della tua natura No, della mia persona Allora io ho detto che sarebbe stata l'ultima domanda Invece l'ultima domanda te la faccio adesso Ma è rapidissima e secca Richiede una risposta molto rapida A chi vorresti dire grazie Per quello che hai ora, oggi dal punto di vista professionale? Allora grazie per quanto riguarda A livello professionale Comunque sia all'azienda in cui lavoro L'azienda di famiglia Un altro grazie molto particolare Comunque sia a moglie e ai figlioli Che a casa riesco sempre a essere Quasi presente Ma soprattutto nel fine settimana Perché poi la mattina parto presto La sera torno tardi Quindi il tempo da dedicare alle bambine è sempre un pochino poco Storie di pura attualità Però non me lo fanno pesare questa cosa Quindi riesco a organizzarmi senza avere il peso di quello che faccio E allora la squadra ce l'hai a tutto tondo Anche la famiglia fa squadra Devo dire che davvero non hai problemi E questo è quello che ti auguriamo noi Nel ringraziarti perché adesso davvero La nostra puntata volge al termine Quindi grazie per averci raccontato La tua esperienza E grazie a tutto il pubblico di Teletruria Che ci ha seguito Come dico sempre Ci vediamo puntualissimi tra sette giorni